La Polizia di Stato sta eseguendo dalle prime ore del Lab una maxi operazione su tutto il territorio italiano di contrasto alla pedopornografia online delegata dalla Procura della Repubblica di Napoli. Le indagini dei poliziotti della Polizia Postale di Napoli e dal CNCPO, il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, ha portato alle missioni di numerosi decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti soggetti gravemente indiziati di detenzione e commercio di materiale realizzato mediante sfruttamento di minori dei 18 anni. L'analisi delle tracce informatiche lasciate in rete dagli internauti e la ricostruzione meticolosa dei flussi finanziari hanno consentito di identificare soggetti residenti in nove diverse regioni italiane, destinatari dei decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Napoli che sono in corso di esecuzione dagli investigatori della Polizia Postale dell'Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Calabria.